La Ceggia siamo con il sindaco Mirko Marina per la ripartenza finalmente del carnevale di Ceggia arrivato alla settantesima edizione, sindaco come è stato poter ripartire con tanta gente in piazza oltre 3 mila le persone tutte festanti e gioiose. È una grande soddisfazione vedere queste persone in piazza, come hai detto bene dopo due anni la gente aveva voglia di uscire, i ragazzi sono tutti entusiasti, avete visto una grande partecipazione che dire, non c'è un carro che mi ha colpito, sono tutti carri belli e ogni carro ha la sua particolarità quindi ognuno è da gustare, sono tutti belli e sarà difficile per quest'anno per la giuria decidere qual è il carro che dovrà vincere. È un'emozione fortissima ritornare in piazza davanti ai nostri amici che sono venuti a vedere appunto queste magnifiche opere d'arte realizzate dai nostri carristi, insomma ci auguriamo che siano tre giorni meravigliosi. Una stima di tutti i volontari, ballerini, coreografi, carristi presenti? Saremo un 300 che lavoriamo attorno al carnevale tra carristi, gente del direttivo, volontari. Questo significa che il carnevale coinvolge veramente tutti? Tutti, tutti, tutti. È una cosa che prende tutto il paese. Com'è poter ritornare fuori in giro per la città e rifesteggiare il carnevale? Beh, molto bello e utile. A te qual è il carro che hai piaciuto di più? Questo. La coreografia e tutto che si muove. Com'è questo carnevale? Bello, tanta roba, la bellezza di questo carnevale. Carro che vi è piaciuto di più? E sulle mani ceti. Cosa vi ha colpito? Ragazzi, cinque carri, uno più bello dell'altro, più quello. È molto particolare, tanti dettagli, fatto bene, stupendo. Milena, è andata la prima sfilata, quella più suggestiva, quella in notturna, quanta soddisfazione c'è per questa ripartenza? Una soddisfazione grandissima, è stata una gioia, un'emozione grande e finalmente la piazza è tornata a vivere dopo due anni di stop. I carri erano meravigliosi, gruppi di ballo anche, divertimento c'è stato, quindi direi più che bene. Oltre le aspettative, quindi abbiamo iniziato proprio bene. Buona la prima quindi per la ripartenza, adesso ci attendono altre due date, giusto, con la proclamazione poi finale del vincitore. Sì, abbiamo altre due sfilate, domenica 19 e il martedì 21 con le premiazioni, tutte e due in pomeridiana, inizio sfilata a due e mezza, quindi aspettiamo tutti. Un carnevale così bello non l'ho mai visto. Che aspettative ci sono da questa serata? Divertimento, sano, aggregazione, felicità. Direi, 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 che brutta fine le cattoline.